Vi assicuro che nel secondo tempo il nostro atto non subirà neppure un gol. Il nostro amato portiere dimostrerà tutto il suo valore e il suo coraggio. Sembra che nell'intervallo il portiere dei Samark abbia fatto una cura ricostituente. Mi chiedo come farà a parare con quella pancia. Il pallone comincia in pieno e il bacione gonfiato di Meta. A 20 metri ti sta inondando completamente l'area di ricordo dei Samark. Il portiere Meta. Siete pronti?